... Venerdì 4 dicembre, buongiorno con TRG Mattina, la rassegna stampa dei quotidiani in edicola, apertura di taglio, segno diverso nei giornali, subito con il Corriere dell'Umbria, una lettera del Santo Padre, piccoli dell'asilo, sacro cuore di Passignano, cari bambini vi scrivo, firmato Papa Francesco, ma c'è la vicenda del salvataggio delle quattro banche, tra cui Banca Etruria e Banca Marche, con i risparmiatori che dall'oggi al domani hanno perso i risparmi di una vita, più di 40.000 risparmiatori traditi, titolo del quotidiano perugino, lo vedremo nel dettaglio. La Nazione, ma la notte no, mega intervento sul raccordo e code infinite, siamo a Perugia, c'è chi invoca lavori notturni, fino a Natale, cantiere solo diurno, poi se ne riparla e poi l'omicidio di Raffaella presta, il bimbo va dai fratelli di Raffaella, ux ricidio di Del Bellocchio, il magistrato chiede che il piccolo sia trasferito in Puglia, poi la cronaca d'Alfo Lignate, muore nella scarpata, lo trovano al mattino, il giornale dell'Umbria, aperture dedicate alle vicende internazionali, California, pista ISIS, killer in contatto con diversi jihadisti, torniamo in Umbria con il messaggero, antiterrorismo stretta sui santuari, scatta l'operazione Giubileo, sotto tutela gli eventi religiosi non solo in basiliche e cattedrali, rinforzi già operativi ad Assisi, controlli straordinari a Colle Valenza, Cascia, Norcia e Perugia. La cronaca, anziane scippate, stroncata superbanda, vedremo tanti servizi all'interno, da Gubbio contro i furti, spunta su WhatsApp la ronda virtuale, sempre Gubbio interessata dal servizio sull'ipotizzata riorganizzazione delle diocesi, macro diocesi, Gubbio e Castello con Perugia, questa l'ipotesi appunto del progetto Alvaio, poi chiudiamo come sempre con il meteo, clima mite anche per il Ponte dell'Otto. Ovviamente con tutte le attese che questo periodo, questo ponte porta con sé. Allora, noi torniamo al Corriere dell'Umbria, con le pagine regionali, dicevamo proprio del decreto Salva Banche, l'esproprio colpisce oltre 40.000 Umbri, Feder Consumatori stima i traditi per il caso di Banca Etruria, Petruzzi dice comunicazione carente, scatte il ricorso al Tar del Lazio, arriveranno pure in pulma nell'appuntamento di sabato, a Gualdo Tadino promosso da Feder Consumatori con l'appello lanciato a enti, istituzioni, parlamentari, consiglieri, per numeri che sono agghiaccianti, i territori più penalizzati risultano Nocera Umbra, Fossato di Vico, Sigillo, San Giustino e Gualdo Tadino, come abbiamo avuto a modo di appurare anche nei nostri appuntamenti informativi. Intanto Feder Consumatori a livello nazionale ha annunciato il ricorso al Tar per chiedere l'annullamento del decreto, ma è ancora aperto il caso degli azionisti di Veneto Banca, ricorda il Corriere dell'Umbria, Marinelli dell'Unione Nazionale Consumatore, sul salvataggio dei quattro istituti, non c'è stata diversificazione del patrimonio, Garofalo del Lado che lancia il Comitato dei Diritti. Ancora pagine regionali, gli sportelli decentrati della provincia continuano a svolgere il servizio di controllo, nonostante il passaggio delle deleghe alla Regione, obiettivo dichiarato non creare disagi all'utenza. Ricordiamo anche l'iniziativa del Partito Democratico che scende in piazza con Italia Coraggio. Si diceva del terrorismo, si allarga il cerchio dei sospettati, guardia sempre alta a pochi giorni dall'operazione della Digos, dopo le perquisizioni nelle abitazioni di Gualdo dei due operai che avevano contatti con la cellula smantellata, lente puntata su altri cossovari e macedoni e non solo. Così dunque con le pagine regionali, con la Nazione, piccoli acquisti con il Bancomat, solo i clienti sorridono, a titolo del quotidiano fiorentino, favorevoli il farmacista, ma barista e tabaccaio sollevano problemi, pesa il costo delle commissioni, moneta elettronica per caffè e quotidiani, le perplessità degli esercenti all'indomani dell'ipotizzata novità. E poi rifiuti a peso d'oro, siamo tra le regioni che pagano di più, tariffe aumentate più 13%, oltre l'inflazione. Poi il caso, l'omicidio del Bellocchio, il figlioletto di Raffaella va in Puglia, ha chiesto l'affidamento agli zii materni, la famiglia dice vogliamo solo giustizia. E poi l'Università per Stranieri al voto, ecco gli studenti eletti, scelti i rappresentanti seppioni e Cardenas Salazar. E ancora con le pagine regionali, eccoci al giornale dell'Umbria, si parte con l'ira dei consumatori per il decreto salva banche, pronti gli esposti in procura, faremo valere i diritti dei risparmiatori che si sono visti a zerare i propri risparmi. Questo dunque il grido di battaglia di chi si appresta appunto a condurre la propria lotta per vedere riconosciuti i diritti cancellati. Invece in tema di donazioni, l'allarme dell'Avis per il netto calo, il presidente Magara dice il futuro è ancora più nero, si soffrirà per il ricambio generazionale. Intanto una legge per dire stop al bullismo in regione alla proposta di romettire socialisti, fenomeno preoccupante, dice processo telematico, l'Umbria a testa di serie insieme alla Toscana sono due le regioni scelte per sperimentare delle innovazioni tecnologiche introdotte in campo giudiziare. Intanto in tema di progresso e di evoluzione tecnologica, l'Umbria ha un database geotopografico, la realizzazione finanzata con i fondi europei ha dato secondo l'assessore regionale Cecchini priorità alle identità più peculiari della nostra regione. Ancora con le pagine regionali, la stretta sugli stranieri, quindi il servizio di apertura del messaggero con l'antiterrorismo scatta l'operazione sotto tutela agli eventi religiosi, non solo in basilica e cattedrali. Assisi rinforzi operativi, metal detector in ingresso, uscita dalle piazze, stretta sui santuari, controlla con l'evarenza cascia e norcia. A Perugia sotto controllo la chiesa dell'ospedale e l'aeroporto. Intanto clandestini e criminali, espulsi tre albanesi, fermato su un'auto dalla stradale in via Palermo, loro carico in ammissibilità a stare nei paesi area Schengen. E allora noi torniamo al Corriere dell'Umbria per vedere insieme le pagine dei comprensori partendo evidentemente dal capoluogo Perugia con l'apertura dedicata all'operazione del commissariato di Assisi che riguarda tutta la provincia di Perugia sulla banda presa deditare rapine agli scippi violenti. Avevano colpito soprattutto anziani, cinque, tre uomini e due donne nella trappola dei poliziotti di Assisi. Ancora cronaca, nascondevano nel bosco la cocaina da spacciare. Sono stati arrestati due giovani pedinati e inchiodati dai carabinieri nelle loro abitazioni, oltre alla droga, ben 6 mila euro in contanti. Poi la mamma uccisa all'omicidio di Raffaella Presta, il mare covava sotto la cenere. Ancora per la cronaca, Bracere è acceso per tutta la notte, quattro intossicati all'ospedale, il monossido di carbonio colpisce ancora per due, trattamento nella camera iperbarica di Fano. La vicenda Gesenu, rischio infiltrazioni ancora presente. Secondo l'avvocatura dello Stato, chi demolisce il ricorso al TAR che è stato presentato dalla Gesenu, c'è, sussiste ancora questo pericolo. Poi in tema di trasporti, Ryanair ha deciso, tagliato il collegamento con la Sardegna, sparesce il Perugia-Cagliari. Ancora con Perugia segnaliamo il parto dell'attrice Aurelia all'ospedale di Perugia, con tanto di ribalta mediatica a livello nazionale. Poi andiamo nell'Assisiate, residenti in fermento a Santa Maria degli Angeli, dalla sporcizia alla sicurezza è una sola protesta. Nel mirino di chi vive nei quartieri residenziali, la velocità a cui sfrecciano le auto e la differenziata. Città di Castello, tutto pronto per la mostra di arte presepiale nella cripta della cattedrale in esposizione 190 pezzi unici, l'edizione che si aprirà domani dedicata a Gualtiero. Angelini, 190 come detto, i presepi mai esposti prima, una raccolta unica con molte scuole italiane di livello internazionale, inoltre l'intera città viene coinvolta con altri presepi in mostra nei luoghi dove sono stati realizzati, tanto da fare un itinerario da non perdere. La famiglia Rossi dal 1945 col banco d'ambulante, festeggiati in piazza dal mercato, 70 anni di attività. E poi segnaliamo anche l'assemblea della Fondazione Cassa Risparmio di Città di Castello, si eleggono 5 nuovi soci. Andiamo alla celebrazione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco a Città di Castello in un anno 1200 interventi, i pompieri sempre in prima linea, così come per il distaccamento di Gubbio, ovviamente anche negli altri distaccamenti dell'Umbria, qui si parla nella pagina di Gubbio dell'istaccamento Eugubino, un anno nel segno dell'impegno per dare aiuto a chi ha bisogno. Vigili del Fuoco festeggiano la patrona nella nuova sede di Via dell'Arboretto e poi Via Libera ai lavori per il camminamento dell'ex Acquedotto, intervento nella Gola delle Bottaccione. Abbiamo dato notizia all'assessore Tasso in consiglio e poi segnaliamo l'incontro oggi del Rex Refettore San Bredetto sul ruolo operativo per i cristali nel mondo, mentre è stata inaugurata la moderna serie della CIA che raccoglierà oltre mille utenti da tutta la fascia appenninica, si trova in Via Beniamino Baldi, le sfide per stare al passo con l'evoluzione dell'agricoltura. Intanto il campione di kickboxing Matteo Calzola è stato ricevuto in comune a Gualdo, il centro di volontariato sociale fa il punto sull'attività e guarda al futuro, tra gli appuntamenti appunto per Santa Barbara all'istaccamento di Gaifana la messa a partire dalle 17.30, mentre dopo la morte del 16enne travolto dal treno, una città attonita, la commozione dei coetanei. Sui social network ancora un successo i mercatili nel parco del Monte Cucca, aumentati sia espositori che visitatori per la manifestazione che ha coinvolto quattro comuni. A Foligno addia un politico coraggioso, si è retto ieri dell'incidente nel quale è rimasto coinvolto un 74enne, bene si tratta di Raniero Ottaviani che ha perso la vita a Cifo, in tanti lo ricordano, sempre vicino ai problemi della gente con un passato di attivista nella democrazia cristiana. La Quintana, il Cavaliere sia legato a Rione per la durata del mandato, lo chiede il Cassero all'ente Giostra, mentre per gli illeciti bancari ecco come difendersi avvocati ed esperti a confronto oggi pomeriggio all'hotel Poledrini, iniziativa promossa da Arnett e ancora i mercatini della solidarietà per accendere il Natale. è stata presentata l'iniziativa di Comune, Camera di Commercio, Lions Foligno e Lions Deruta, sarà un evento di assoluto livello, è stato sottolineato e dopo le luminarie arriva anche l'albero con appunto mercatini e solidarietà per accendere il Natale. Intanto il presidio della CGL per un lavoratore licenziato da Equitalia è chiesto anche l'intervento delle istituzioni. Con la Nazione il dorso umbro, si è detto dei fatti, evidenzia regionali per quelli locali, partendo dal capoluogo, strade, l'asfalto nuovo di Zecca non tiene così il palazzo deve correre ai ripari a San Marco, di fatto un tratto di 200 metri bitumato un mese fa. Intanto in un colpo il Comune cambia nome a 29 vie, sempre con la Nazione. Andiamo ad Assisi, rapinavo l'anziane, presa la gang e l'operazione del commissariato di Assisi, ma come abbiamo detto per questi raid, queste azioni malavitose che riguardavano tutta la provincia. Da Bastia, intanto invernalissima, l'obiettivo è superare i 2000 partecipanti, torna al tradizionale manifestazione polistica, parte dei proventi devoluti a Teleton. A Gubbio anche qui la nuova caserma che apre le porte a tutti i cittadini per la ricorrenza di Santa Barbara, la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Gubbio, l'appuntamento con la celebrazione religiosa per le 18.30. Ovviamente c'è la curiosità per questa novità della sede, ne daremo conto ovviamente nei nostri appuntamenti informativi. E poi la tragedia inspiegabile, siamo a Gualdo, il suicidio del 16enne sotto il treno, invece il bilancio di 55 quintali di cibo per la colletta alimentare. Ancora Massimo, storia simboli in un libro La vicenda delle giovani. Massimo Mariucci, la mia seconda vita, il titolo. Alto Teveri, soldi del Palasport nelle strade. L'assessore dice risorse impiegate per migliorare la viabilità. Sassolini del Polo Tifernate dice il Palagione è davvero in condizioni pietose. Per quanto riguarda il caso dell'azienda che ha minacciato e annunciato di lasciare la Valtiberina, troviamo una strategia comune. Forza Bocca non se ne va. Assumiti in Toscana, mercati dice conciliare agricoltura di qualità con tabacco e mais. Anche qui a Città di Castello, vigili del fuoco sul campo, sono chiamati a rispondere a tre allarmi al giorno. Pompieri impegnati in 1112 interventi nel 2014, quelli del distaccamento di Città di Castello. Per gli spettacoli segnaliamo l'appuntamento con gli Oblivion al Teatro degli Illuminati e poi la presentazione della mostra dei presepi dedicata a Gualtiero Angelini, a Foligno, il mercatino. Tra eccellenze e solidarietà arriverà anche l'albero di Natale. Confcommercio dice lo shopping servirà ad aiutare i bimbi malati da trevi. Lavoriamo insieme per rendere sicuro il territorio. Il comune il benvenuto al nuovo comandante della stazione dei Carabinieri. E poi il volo mortale della Scarpata, trovato il mattino dopo. L'automobilista 74enne è finito fuori strada nella notte, disposta l'autopsia. Con il giornale dell'Umbria, anche qui i comprensori, partendo da Perugia, ha detto dell'elezione dell'Università per Stranieri, segnaliamo l'Unione Giovani Commercialisti, compie 30 anni e festeggia. Poi l'Università, elezioni studenti, Ludo sale sul gradino più alto. Molte strade al cambio del nome. A Perugia l'abbiamo visto, proseguendo con i comprensori, la cronaca tradita dal bracere, intossicati. Quattro uomini residenti a Farneto di Colombella sono stati ricoverati in ospedale. Ed è il male che ha tronfato sul bene. L'omicidio presta il dolore del padre di Raffaella. Non sapevo niente di tutto questo, della situazione della figlia. L'avvocatessa è stata uccisa dieci giorni fa, lo ricordiamo. L'uomo, il padre, dice, il male che ha tronfato sul bene. Il male che, come il fuoco, cova sotto la cenere di un'apparente normalità. Avanti tutta, la palestra diventa realtà. Domani l'inaugurazione della struttura all'ospedale. Ancora comprensori con Foligno, il mercatino che diventa un vero grangala nel centro. La presentazione, come detto, a una trentina i banchi che esporranno merci di elevata qualità. Invece i giovani diventano ambasciatori di Montefalco. Oltre 200 studenti saranno insegniti del titolo per gli elaborati che illustrano il territorio. L'Alto Tevere, i vigili del fuoco, mille interventi, tante le chiamate anche per gli allagamenti verificati nel 2015 nel territorio. E poi, sul Palagione, come detto, l'assessore Massetti dice fondi per la viabilità e la mostra dei presepi sarà dedicato, come detto, a Gualtiero Angelini. Gubino Gualdese, Gualdo che piange il 16 anni morto sotto il treno, ascoltati molti testimoni, messaggi di cordoio sui social. E i camperisti da tutta Italia sono attesi, come ogni anno, a Gubi in occasione della Ponte dell'Immacolata con la cerimonia di accensione dell'albero di Natale più grande del mondo. Ancora l'operazione del commissariato di Assisi, scippi e rapine. La polizia resta cinque stranieri. Questo quindi per il giornale dell'Umbria. Chiudiamo con i territori, con messaggero da Perugia, Viale Roma, sosta da incubo, caos per i parcheggi creativi. E Monte La Guardia, quartiere dimenticato, titolo del messaggero. Troppi furti, residenti si inventano detective, controlli sui movimenti strani, segnalazioni alle forze dell'ordine. Ancora donne aggredite e derubate per questa superbanda degli scippi, come detto, a Gubbio contro i furti. Su internet c'è adesso la ronda virtuale, lo abbiamo visto richiamato in prima pagina. Andiamo a Foligno con l'apertura dedicata al mercatino di Natale. La qualità e beneficenza sarà visitabile dall'11 al 24 dicembre. Edizione speciale Gran Galà. Si raccoglieranno fondi a favore del reparto di pediatria e non sole. Poi sfida colpi di app alla migliore 10.000 euro appuntamento dal centro studi con il progetto dedicato alla tecnologia. Poi ovviamente la crona che esce di strade muore. Passante chiama i soccorsi. Ancora con il messaggero, gli scogliattoli grigie e rossi e la biodiversità come patrimonio. Gestione equilibrata delle risorse. E niente. Steccate ancora nel Tiferno. Il presepe diventa internazionale. La mostra nella cripta. La presentazione che abbiamo visto c'è stata ieri. Noi torniamo al Corriere dell'Umbria per parlare di economia. Lo facciamo nell'apposita sezione con la presentazione dell'annuario dell'Umbria 2016-2017 realizzato come sempre da SG89 Group. Prima PAC 2000 con dal secondo posto a Ciai Speciali Terni. Questa è la risultanza della speciale graduatoria. Mentre tra i vari particolari che emergono da questa indagine il Corriere dell'Umbria ha composto le imprese che fatturano tra i 5 e i 100 milioni. Sembra essere dinamico senza troppi riflettori per un periodo che può essere propizio per agganciare la ripresa. 440 registrano utili di bilancio in alcuni casi anche molto significativi. Risultano notevolmente rafforzati anche i patrimoni netti. Questa è dunque l'analisi di SG89 alla quale daremo spazio nei nostri appuntamenti informativi. Intanto torna a cantine aperte. Appuntamento in questo fine settimana in 11 strutture Umbria in occasione ovviamente l'edizione speciale dedicata al Natale. L'economia anche con la nazione. C'è spazio per i legami con il Giappone. Il cuore verde che sposa il Giappone. Così la moda valorizza l'Umbria. Ha presentato il progetto insieme ai design Mezzetti e Nakagaki. E poi l'Unione Giovani Commercialisti compie 30 anni a promuovere e valorizzare la professione. Questo l'imperativo economia anche con il giornale dell'Umbria. Anche qui c'è spazio per l'analisi delle emergenze, delle eccellenze della regione. Bene, innovazione da export, nuovi fondi per le imprese, il bando regionale per l'internazionalizzazione. Ora mette a disposizione 2 milioni di euro. segnaliamo uno spillatore per birra Umbro nel gota del design e con il messaggero. Andiamo direttamente alle pagine di cultura e spettacoli. Lo facciamo con la pagina di giorno e notte. Beatles contro Stones. Sfida 100 all'ora. L'11 dicembre la città della domenica. Un centinaio di musicisti perugini e i loro 14 gruppi faranno rivivere la sfida tra le due storiche band. E ancora con gli spettacoli, la cultura e gli spettacoli del giornale dell'Umbria. C'è spazio per le opere di fiume che sono trasferite dalla regione a Monza. Dieci dipinti che abbelliscono le pareti di Palazzo Donini saranno esposti in Lombardia. Mentre ieri è stato presentato a Palazzo Cesaroni il nuovo libro del Vescovo Sorrentino. Si chiama Laudato. Sì, la nazione. Anche qui con la cultura e gli spettacoli c'è una curiosità dedicata proprio a Emanuela Aureli, il cui piccolo Giulio, il figlio, è nato a Perugia, parto Cesario Alex Silvestrini. Noi chiudiamo con la cultura e gli spettacoli con il Corriere dell'Umbria. Anche qui c'è la sfida tra Beatles e Rolling Stones in programma l'11 dicembre a Perugia. Ci sono le opere di Salvatore Fiume che vanno a Monza e poi sabato sera a Lyric che la consiene i premi rossa dell'Umbria. Sotto i riflettori gli umbri che si sono distinti in vari settori. Noi con questo ci fermiamo. Come sempre un breve stacco pubblicitario tra poco di nuovo insieme con lo sport.